Cittadini e attività commerciali e artigianali in ginocchio a Termevigliatore, la bomba d'acqua di sabato pomeriggio ha devastato il paese. Fango e desolazione, una situazione difficile, drammatica, senza mezzi termini. Fin dalle prime fasi delle schiarite si è lavorato senza sosta per liberare dal fango locali, commerciali e private abitazioni, ma anche le strade violentate dal maltempo. Si è lavorato a testa bassa in una calda domenica pomeriggio d'agosto con la polvere che si alzava al passaggio dei mezzi. La via Benedettina superiore al bivio per Rodimilici è stata travolta da un fiume in piena di acqua, fango e detriti che ha invaso le case. Cittadini che hanno perso le loro auto, travolte, ma anche mobili, suppellettili, di tutto. Esercizi commerciali in ginocchio, così come sulla via nazionale dove si è elaborato per liberare dal fango negozi che probabilmente saranno costretti a rimanere chiusi per qualche giorno. Come se non bastassero le difficoltà scaturite a seguito dell'emergenza Covid-19. Danni evidenti anche a Marchesana dove il maltempo ha sfregiato la cupola del grande gazebo sul lungomare. L'acqua anche qui ha danneggiato auto, invaso esercizi commerciali. Allagata anche l'area che ospita le giostre adibita a Luna Park. Intanto il consigliere comunale Florin Daducci ha chiesto un consiglio comunale straordinario per corroborare la richiesta di stato di calamità e predisporre misure immediate con l'ausilio del Governo regionale.